Al Salone del Libro 2024 è il podcast che raccoglie tutti i talk organizzati da CoraMedia e UIL durante l'evento torinese. Buongiorno a tutti e tutte. Io mi chiamo Sara Poma e lavoro in Cora dall'inizio. Faccio podcast con la mia voce e aiuto persone e aziende, istituzioni culturali, musei a fare i loro podcast. Oggi parliamo di una cosa un po' particolare, una cosa che in realtà ci ha sorpreso molto in questi quasi quattro anni di vita di Cora. Una cosa che non avremmo mai immaginato all'inizio, ovvero di quanto l'audio potesse diventare uno strumento importante e creativo in qualche modo per raccontare il mondo della cultura e dell'arte. Per farlo ho invitato oggi Chiara Guerraggio di Scuderia del Quirinale con cui abbiamo realizzato due podcast che mi sono molto cari. Il primo si chiama Affari Spenti e alla voce di Francesco Oggiano che è un giornalista e creator digitale che afferisce al mondo di Will e di Cora anche di conseguenza. Il secondo invece si chiama Ultracalvino ed è uscito all'inizio di quest'anno ed è scritto e raccontato da Ester Viola. Entrambi questi podcast raccontano in una maniera, oserei dire, molto laterale quello che è successo all'interno delle sale delle Scuderie del Quirinale. Noi avremmo un estratto da far sentire. Mi piacerebbe chiedervi di ascoltare questo pezzetto di Affari Spenti, tratto dalla prima puntata che ci immerge un po' più nel percorso di racconto che vogliamo fare in questo tempo che abbiamo a disposizione. Cora 1938 A Firenze c'è il sole di maggio e lunedì malarie di festa E per le strade c'è un'atmosfera irreale, folla chiassosa, urla, bandiere che sventolano, ma dentro la galleria degli uffizi c'è uno strano silenzio. Non ci sono migliaia di visitatori che siamo abituati a vedere oggi, ma solo un piccolo gruppo di persone. E tra loro un uomo sulla cinquantina, alto poco più di un metro e settanta, capelli e occhi scuri, sta osservando un capolavoro dopo l'altro, con attenzione, in silenzio, mentre ascolta le spiegazioni della sua guida. Guardare tutta questa meraviglia gli riporta alla mente un vecchio sogno, quello di dare vita a un museo tutto suo all'Inns, in Austria, paese dove ha trascorso i suoi anni giovanili quando ancora immaginava di diventare un pittore. Quest'uomo così colpito dai capolavori del Rinascimento è lo stesso che si macchierà dei crimini più orrendi della storia dell'umanità. Forse, mentre sogna davanti a un botticeglio o un tiziano, ha già deciso di far scoppiare una terribile guerra o di ordinare lo sterminio di milioni di persone. Forse l'avete capito. L'uomo è Adolf Hitler. In questo momento Hitler ha davvero il progetto di aprire un museo e riempirlo di opere che, sempre secondo l'ideologia nazista, rappresentano i canoni della perfezione ariana. E per farlo è disposto a tutto. Questa però non è la storia della passione di Hitler per l'arte. I capolavori che Hitler sta ammirando, come tanti altri ospitati nei musei di tutta Italia, di lì a pochi anni verranno impacchettati e trasportati in luoghi sicuri per sfuggire ai bombardamenti, agli attacchi aerei e, soprattutto nelle fasi più concitate della guerra, all'avidità dei nazisti. Ecco, questa è la storia degli uomini e delle donne che hanno difeso il patrimonio artistico italiano mettendo a rischio la loro stessa vita. Sono Francesco Giano e questo è Affari Spenti, la storia avventurosa di chi salvò l'arte italiana durante la Seconda Guerra Mondiale. Affari Spenti è un podcast di Cora Media in collaborazione con le scuderie del Quirinale. Bene, grazie. Questo era l'intro, diciamo, i primi minuti della prima puntata di Affari Spenti, che è un podcast che è uscito ormai un anno fa circa, cinque puntate da circa una ventina di minuti, in cui abbiamo fatto un'operazione molto interessante, secondo me, perché di solito quando ci capita di lavorare con i musei, diciamo, quello che principalmente ci viene chiesto è, abbiamo questa mostra, ci piacerebbe raccontarla in forma di podcast, in una maniera, diciamo, che è molto più lineare. Invece, mi ricordo, Chiara, la prima volta che abbiamo parlato, tu sei arrivata con un'idea che era un po' diversa. Abbiamo fatto più un lavoro quasi, direi, creativo e strategico, che partiva dal target. Cioè, io mi ricordo distintamente che tu mi hai detto, a me non serve parlare con le persone che vengono già in mostra. Mi interessa utilizzare il podcast per arrivare a un pubblico che sia diverso. In che modo, secondo te, questo mezzo può fare questo? E ti chiedo anche se con questo podcast e quello che abbiamo fatto dopo, secondo te, ci siamo riusciti? Cioè, avete visto anche la presenza di un pubblico diverso nelle sale delle scuderie? Allora, sì, siamo partiti da... questo è il ragionamento, no? Che abbiamo fatto all'inizio. Perché ti devo dire la verità. Io che, come dire, vivo all'interno delle scuderie del Quirinale, perché in realtà la mia stanza si affaccia misteriosamente proprio nei corridoi delle sale. Quindi io osservo i visitatori anche quando i visitatori non osservano me. Il mio crucio più grande non è vedere la reazione del visitatore, vedere se il visitatore comprende, capisce, eccetera. Quello non si me ne occupo. Ma il mio crucio più grande è il visitatore che non c'è. E perché non c'è? E quando il visitatore non c'è, quando un ragazzo non viene a vedere la mostra, non è colpa del visitatore, è colpa mia. E partendo da questo presupposto, quindi secondo me non abbiamo mai parlato di raccontare la mostra in modo diverso. Perché la mostra si racconta. Cioè, se il visitatore voleva venire a vedere la mostra, la mostra aveva un suo racconto. Ma io devo raccontare, devo raggiungere un altro visitatore. Quello che al momento non ha pensato che venire in mostra alle scuderie del Quirinale fosse una cosa interessante da fare. E io invece lo voglio convincere che invece sia una cosa interessante da fare. Però attenzione, non lo voglio convincere per dire vieni, che è così, visiti, compri il biglietto. No. Infatti il podcast, come dire, è stato un regalo. E per me il visitatore che ha ascoltato Affari Spenti, il meraviglioso podcast, è già un visitatore che c'è. Perché non importa. Forse non è venuto poi a vedere la mostra, ma quello che io volevo raccontargli l'ha ascoltato. Anche se non ha attraversato le sale della mostra. Poi, secondo me, se non ha attraversato le sale della mostra ha perso un'occasione. Perché era un completato. Cioè, poteva toccare con mano, toccare fino a un certo punto, se per le opere. Però poteva toccare per mano, come dire, le opere e la storia che aveva ascoltato. Però, quello che io avevo da raccontare, gli era arrivato. Ecco, il focus è ciò che abbiamo da raccontare. Quanto è urgente ciò che abbiamo da raccontare. Ho risposto alla tua domanda? No, no. Assolutamente ho risposto. E mentre rispondevi pensavo anche a un'altra cosa. La traccia digitale che un lavoro di questo tipo lascia. Chiaramente quando si fa una mostra, poi si realizza un catalogo. Che comunque, i cataloghi delle mostre sono sempre oggetti splendidi, straordinari. Ma non sono accessibili. È la portata di tutti. Quando tu prima, parlando di questo podcast, usavi giustamente la parola regalo. È corretto perché anche chi magari non ha fatto in tempo a vedere la mostra. Ha comunque un modo per accedere a queste storie straordinarie. Che rimarranno per sempre, gratuitamente, sulle piattaforme audio. E questo, secondo me, è un tema cruciale. È molto importante per arrivare a un pubblico più giovane. Che magari può anche non avere i mezzi, come dire, in una dieta economica di una settimana. Magari il biglietto di un museo può anche non starci, no? In qualche modo. Assolutamente. Ma non solo in una dieta economica. I cataloghi sono sempre degli oggetti meravigliosi. Ma sono anche sempre degli oggetti costosi. Il catalogo d'arte, per sua natura. Perché ha anche bisogno di una stampa molto accurata. Diciamo, quindi, sono di per sé stessi molto costosi. Ma c'è di più. Noi parliamo di accessibilità, no? Credo di avercelo scritto dietro la schiena, no? Come rendere accessibile. Ma non è solo un'accessibilità, secondo me, non è solo un'accessibilità economica. Ma è anche proprio un'accessibilità culturale. Ecco, io vorrei dire questo. Cioè, quante volte, e secondo me diverse volte, quante volte un visitatore visitando un museo o una mostra si sente in qualche modo, rischia in qualche modo di sentirsi respinto per un linguaggio usato, per dei temi, come dire, dati per scontato, per delle conoscenze, per una certa, non di tutti, però uso un termine così, per una certa spocchia, no? Cioè, è questo, è ovvio, è bello, è importante. Ecco, il mio impegno invece è rendere accessibile in questo senso. Esistono molti modi di leggere una mostra e di raccontarla, in modo che ognuno trovi la sua strada per avvicinarsi a ciò che abbiamo da dire. Quello che è interessante è ciò che abbiamo da dire, non la strada che hai fatto per arrivarci. Certo, grazie, anzi, torno da Francesco e torno un attimo al tema del target. Da giornalista che si muove moltissimo sui social e che è stato in grado di costruire una propria community, che ha anche dei numeri importanti, mi chiedo in che modo tu ragioni sui tipi di format e gli strumenti da usare per raggiungere magari un pubblico che ancora non ti segue e anche qual è la tua esperienza col podcast in questo senso, no? Sì, allora, si può parlare di cambiamento di temi e cambiamento di piattaforma. C'è un episodio che mi ricordo, forse, il momento più difficile in cui avevo proprio un target che non c'entrava niente con il mio a cui dovevo raccontare delle cose, mi avevano chiamato a fare delle lezioni di informazione politica in una casa di TikToker. Quindi mi ritrovo in questa stanza, bellissima esperienza, con alcuni tra i TikToker più famosi d'Italia e io gli devo parlare del governo Conte allora, cioè di queste cose, gli devo insegnare la politica. E arrivo il primo giorno per capire un po' il loro grado di interesse. A me non piace parlare di culture, cioè no, di interesse. Uno può anche fregarsene, a me ne frego del calcio, ci sta che uno se ne freghi della politica. E li faccio e li indovino a chi, cioè li mostro delle foto di personaggi storici, eccetera. E tranne Mattarella e Conte, gli altri non li sapevano, ovviamente c'è Guevara, Trump, tutti questi qua, non erano molto interessati. E quindi dico, ok, ma come lo prendo sto pubblico? Come catturo la loro attenzione? È stata durissima. E allora sono partito proprio un po' da, attraverso il, uso un termine sbagliato, però medium, però medium tematico, cioè prendo un oggetto, un tipo di oggetto che possa portargli all'interesse verso la politica in questo caso. Esempio, volevamo affrontare il cambiamento climatico, i movimenti climatici, eccetera, tramite la figura di Greta Thunberg. Devo parlare di sinistra e destra, come gli ho spiegato la sinistra e la destra e le differenze. Siamo partiti dall'abbigliamento, fondamentalmente, perché loro erano appassionati di abbigliamento. Può sembrare superficiale, però siamo partiti dall'abbigliamento che negli anni 60 portavano i giovani nelle piazze. Ah, i Ray-Ban sono di destra, adesso non li metto più, eccetera. Quindi vai a prendere un tipo di oggetto, un tema, e attraverso quello provi a spiegare poi il tema generale. Adesso faccio, ad esempio, a proposito di format, un po' su TikTok, un po' su Instagram, per spiegarti un po' la comunicazione politica, posso partire dall'orologio indossato dai politici. Una cazzata? Può essere una cazzata, però intanto attraverso quello uso per spiegarti la comunicazione politica. Adesso volevamo, l'Unione Europea ci ha chiamato per parlare un po' in occasione della giornata dell'Europa, raccontare un po' la storia dell'Europa, ma facciamo tramite le storie delle canzoni. Quindi prendiamo le canzoni come mezzo per parlarti della storia d'Europa, dalla Prima Guerra Mondiale a oggi attraverso David Bowie o Francesco De Gregori. Quindi un mezzo per raggiungere questo nuovo pubblico è andare a prendere un oggetto, un tema che può interessare loro e attraverso quello gli racconti quello che li vuoi raccontare, che sta su un gradino diverso, non più alto o più basso, però su un altro spazio. A proposito di piattaforme, sta cambiando la cosa. Ovviamente potrei dire, cioè le piattaforme è sempre così, nasce una nuova piattaforma, arrivano i giovani, poi quando arrivano i genitori, i giovani vanno a prendersi un'altra piattaforma. Ma no, c'è stato prima Facebook, poi Instagram, adesso TikTok, eccetera. Io stesso, quando vedo un po' l'età delle persone che magari mi seguono, vedo che su Instagram è più 25-34, su TikTok inizia ad essere più bassa la maggior parte, 18-25. E normale, secondo me, si sta un po' amalgamando il tutto. Cioè ormai, secondo me, nel futuro non ci saranno tanto le piattaforme divise anagraficamente. Prima c'erano delle divisioni molto più forti tra una piattaforma e l'altra. L'obiettivo di tutte le piattaforme, compresa TikTok, è andare a prendere tutte le età. Tanto ognuno troverà i suoi interessi e la sua verticalità. Su TikTok stanno andando sempre persone più grandi proprio perché ognuno va a trovare la sua nicchia di interesse. Quindi non è tanto una questione anagrafica o demografica, è più una questione di interesse. Visto che ognuno trova il suo interesse, là ci sarà una sempre più amalgamazione. Qual è la cosa però interessante? In tutto questo cambiamento di piattaforme, io parlo di ritorno alle origini. Allora prima c'era TikTok che aveva la cosa giovane, poi c'era Instagram che aveva l'età un po' più grande eccetera. Qual è l'obiettivo per andare a prendere nuovi pubblici con cui creare un legame forte che quindi poi possono andare a interessarsi bene alla tua mossa, vogliono approfondire eccetera. Andare a prendersi delle piattaforme libere da algoritmi, libere da tossicità in cui tu porti il tuo contenuto, porti la tua storia, perché alla fine si sta parlando di quello, di storie che non possono essere influenzate da un cambiamento dell'algoritmo. E quindi dove che vai? Vai sui mezzi più vecchi del mondo, che però sono quelli più resilienti. Primo, il podcast, quello di cui stiamo parlando. I podcast non sono noi, i podcast sono la cosa più vecchia che esista. Sono preesistenti ai blog, cioè i podcast stanno da Apple e iTunes. E alla fine cos'è? È una voce che ti parla all'orecchio. Questo stiamo facendo oggi, io vi sto parlando nell'orecchio. E secondo mezzo, la newsletter. La newsletter è una mail, è una lettera che io ti scrivo. O ti parlo nell'orecchio o ti scrivo una lettera. Questi sono i mezzi, infatti parlo di ritorno al futuro, che stanno secondo me rinascendo, poi possiamo discutere dei numeri, però stanno rinascendo, proprio perché così vai a prendere, vai a catturare l'attenzione di magari meno persone, ma crei un legame di fiducia fortissimo, non condizionato da algoritmi, pulito eccetera, in cui hai un'interazione sana, e catturi l'attenzione del lettore, che ti rimane, si fida di te, ecco, si fida di te. Dici una cosa interessante, chiaramente mi focalizzo un attimo sullo strumento podcast. Tu credi che questa relazione di fiducia sia in qualche modo legata anche al fatto che la voce, la voce non mente, no, in qualche modo, anche quando racconti una storia di altri, come è stato a fare i spenti, poi magari ci arriviamo, una storia che, come dire, hai scritto con un gruppo di persone, no, e quindi non era una storia personale, però nella voce c'è una credibilità che nessun altro strumento ha. Io almeno questo io credo, come la pensi? Eh sì, è vero, cioè, quando qualcuno ti parla e basta, e tu non ti immagini, o meglio, non vedi il suo volto, non so perché, è una cosa primordiale, anche io raramente penso che mi sta mentendo. Poi magari lo sta facendo, eh. Però raramente penso che mi sta mentendo. Non lo so perché, però in effetti è così. Forse perché se io vedo qualcuno che mi sta parlando, mi concentro anche sulla sua mimica facciale, posso notare un qualche tipo di... Ho più informazioni, no? Cioè, o sia la voce, però sto guardando anche il tuo volto, sto guardando come metti le mani, eccetera. E avendo più informazioni posso anche guardare delle eventuali incoerenze tra quello che mi stai dicendo e come stai muovendo le mani, come stai mettendo la bocca, come stai usando gli occhi. Con la voce io ho solo uno strumento. Io dico sempre, no, quando tu hai una fonte è lei che controlla te, quando non hai dieci sei tu che controlli loro. Avendo solo uno non posso fare paragoni, non posso troppo pensare. Quindi mi affido a te. Cioè, o non ti credo, oppure ti credo totalmente. Mediamente quando sentiamo una persona, un podcast che tra l'altro siamo stati noi a scegliere, no? Perché il podcast lo vai a scegliere tu, mediamente ti fidi. Torno al podcast di cui stiamo parlando oggi, a fare i spenti. Prima dicevamo che è una sorta di racconto laterale, o meglio, un'estensione, no? Della mostra. Prima hai usato questo termine che è molto esatto. Che cosa potevano trovare le persone lì dentro che non c'era nella mostra e viceversa, secondo te? Stavamo ragionando su questo proprio con Francesca stamattina. Ci trovavano la contemporaneità degli eventi, nel senso che la mostra, per sua definizione, è organizzata in una serie di sale. E quindi tu, in qualche modo, in una sala racconti una storia, in un'altra, un'altra. E il difficile era fare capire a chi veniva a visitare la mostra, che invece tutto questo che noi raccontavamo stava succedendo nello stesso tempo, negli stessi anni. Cioè, mentre Pasquale Rotondi nascondeva come un pazzo, un folle, cioè un folle nel senso più alto e bello del termine, metà del patrimonio artistico italiano sotto la rocca di Sassocorvaro, nello stesso tempo a Venezia partivano delle gondole piene di capolavori e a Milano si nascondevano le opere di Brera. Quindi tutto questo stava succedendo contemporaneamente. Ecco, il podcast dà questa urgenza, cioè racconta. È vero che ogni puntata ha un focus su un po' un protagonista dei tanti, però, come succede, diciamo, nelle serie, anche nelle serie, si vedono agire tutti gli altri protagonisti nello stesso modo. Ecco, ha dato vita, ha dato vita alle storie raccontate tra le sale. Questo, secondo me. Sì, infatti, quello che abbiamo cercato di fare con questo podcast, che, fra l'altro, mi rendo conto ora che forse abbiamo dato per scontata la storia, abbiamo ascoltato un estratto all'inizio, ma è un podcast che è legato alla mostra Arte Liberata, che è stata ospitata lo scorso anno dalle Scudere del Quirinale, che raccontava le storie dei valorosi e delle valorose sovrintendenti storici e storiche dell'arte e persone comuni che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno messo in salvo il patrimonio storico-artistico italiano da Hitler, che aveva questa idea folle fra le tante di inaugurare un museo di arte trafugata in Germania. E quindi queste persone che fino al giorno prima erano dei, come dire, appunto degli studiosi o delle persone che lavoravano dietro a una scrivania, degli archivisti, eccetera, eccetera, diventano eroiche in qualche modo, no? E io mi ricordo, c'è stato un momento in cui, insomma, abbiamo letto il materiale della mostra, il catalogo e abbiamo proprio, io mi ricordo, mi si è visualizzato davanti agli occhi il fatto che questa storia potesse, che aveva tutti gli stilemi di una serie tv o di un romanzo giallo o di una spy story. E quindi abbiamo, insomma, condiviso poi questo pensiero con Chiara e Francesca Melucci di Scuderia del Quirinale e abbiamo deciso di fare questa cosa un po' matta, cioè di raccontare questa storia che nelle sale del museo era raccontata in maniera anche giustamente istituzionale, in una storia che avremmo potuto vedere su Netflix, no? Forse in qualche modo. E poi c'è stato il secondo passaggio che è stato, ok, ora sappiamo che questa deve essere la cifra, il registro con cui la vogliamo raccontare, chi può essere la voce adatta a farlo? C'è stato un lungo brainstorming e siamo arrivati poi a Francesco, sia per la cosa che dicevamo all'inizio, ovvero di provare a raggiungere un pubblico più giovane, e secondo perché il modo, diciamo, appassionato e coinvolgente con cui Francesco racconta le storie, fa anche divulgazione, mi viene da dire, in alcuni contesti, si sposava molto bene con questa idea che avevamo in testa. Ora, io vorrei chiederti, Francesco, tu sei, diciamo, il tuo mezzo principale, mi sento di dire, è il video, no? Questo non era il primo podcast che facevi, ma adesso, insomma, nel frattempo se ne sono aggiunti tanti altri. Mi interessava capire da te in che modo ti approcci al racconto quando hai soltanto lo strumento della voce a disposizione, cioè quando non hai anche, come dire, quegli elementi visivi che sono caratterizzanti di chi ti conosce, quindi magari il montaggio video un po' serrato, le tue bretelle, eccetera, eccetera. Com'è stato? Allora, premesso che a me piace un sacco scrivere e fare podcast perché non ho tutta quella parte che mi devo vestire bene, mi devo riprendere, quindi è proprio bello stare a scrivere, bello, e poi parli con la voce. Affari Spenti è stato uno dei primi che ho fatto, infatti ho imparato tantissime cose, adesso ne faccio molti di più, tra cui un quotidiano che si chiama Closer, e quindi io la mattina la passo a scrivere il podcast e poi a registrare da solo a casa proprio così, davanti a un computer, ed è molto intimo, è bello, è più intimo, non c'hai poi il pensiero che dopo devi montare, eccetera. Stai là, parli, leggo molto, leggo l'80% di quello che dico, lo leggo per adesso, cioè lo scrivo prima. L'obiettivo ovviamente è parlare sempre un po' più a braccio. Affari Spenti, questi podcast si chiamano Scripted proprio perché sono tutti iscritti, quindi in quel caso leggevo. Quali sono i cambiamenti principali? Allora, primo, che mi hanno fatto notare, parli troppo veloce. Non capisco perché ridete, non è vero, è uno scherzo. Sì, è vero, cioè io parlo molto veloce, però qual è la differenza? In video, a parte le persone leggono il labiale e hanno i sottotitoli. Quando passi al podcast con la stessa velocità ti massacrano. Infatti a me mi sono arrivati tantissimi messaggi che dicono parla più piano perché parlavo troppo veloce. Quindi nel podcast devi un attimo rallentare fondamentalmente. Se ci pensiamo, ma questa è un'opinione mia, cioè i podcast che in America stanno spaccando di più sono lenti a livello proprio di velocità di parole dette al minuto. Cioè Joe Rogan parla lentamente. Lex Friedman, che è il secondo podcast più seguito dal mondo, parla lentissimamente. Quindi io ho l'ansia un po' di finire, nel podcast te la devi proprio mettere via, quell'ansia. Secondo, collegato, la durata. Nel video c'è anche quel montaggio molto serrato che tu dici, quella parlata eccetera, perché ovviamente essendo figli un po' dei social eccetera, l'obiettivo è stare sotto i tre minuti più o meno, no? C'è un video sopra i tre minuti anche su una piattaforma come Instagram è lungo. Se proprio vuoi fare di più stai nei 90 secondi. E quindi c'hai tutta quell'ansia della performance breve. Nel podcast invece banalmente ti premia essere più lungo, no? Cioè il podcast ha già un costo d'avviamento. Devo prendere il cellulare, devo selezionare il podcast, me lo devo cercare, devo premere play. È uno sforzo, non da poco, non lo faccio per due o tre minuti. Ci sono dei podcast di due o tre minuti di successo, però io banalmente non lo farei mai. Queste sono le due differenze tecniche che subito ho notato. Quelle più sostanziali, ovviamente, banalmente, quando tu racconti una storia in un podcast, devi esplicitare un po' più il tutto. Cioè devi stare in mezzo alle situazioni. Devi esplicitare sia il tuo tono, infatti magari adesso quando parlo a braccio dico sto scherzando, oppure devi descrivere un'emozione molto di più, perché non hai tutti quegli elementi video, quelle immagini, quel dialogo che hai, quelle immagini nei video, no? Cioè devi mostrare, devi descrivere tutto. E quindi tutto questo si trasforma nello stare in mezzo alle situazioni. Se tu in un podcast fai una descrizione di tre minuti, che sarebbe impensabile in un video, nel podcast ci sta, cioè ti faccio immergere ancora di più. Nel video ti mostro qualcosa, ti posso mostrare quello di cui ti sto parlando con un'immagine, banalmente, e va bene. È una bella sensazione per il lettore, è molto informativa, eccetera. Nel podcast invece ti faccio immergere tramite la descrizione in un film che è solo nella tua testa, è meno preciso, ma più intimo, più forte. Questa forza è la differenza maggiore. Quindi l'obiettivo di un podcast è raccontarti, ma poi non è mostrarti e proprio farti immergere in qualcosa che alla fine immaginerai tu. Esatto, sì, sono molto d'accordo su questo, diciamo, potere che per me è quasi alchemico, di creare delle immagini nella testa delle persone, delle immagini che poi ognuno decide di vedere come vuole. Secondo me questa è la potenza. Vabbè, poi io sono di parte, chiaramente. Quindi forse adesso mi taccio, perché potrei andare avanti per ore. Invece volevo chiedere a Chiara che tipo di riscontri avete avuto sulla vostra community, sui social. Fra l'altro vi consiglio di seguire l'account Instagram delle Scuderie del Quirinale, dove succedono sempre delle cose anche abbastanza sorprendenti, mi viene da dire. Che tipo di risposta avete avuto dalle persone che hanno scoperto questo podcast e poi quello successivo che si chiama Ultra Calvino, che è molto interessante, che racconta ovviamente di Italo Calvino attraverso la lente dell'amore, dell'innamoramento di autori, scrittori, scrittrici, in particolare Esther Viola, che l'ha scritto e l'ha raccontato. Che riscontro avete avuto? Sì, in particolare quello è l'amore di Esther Viola per Italo Calvino. E lei che seguiamo in questo amore pazzo per Calvino. Dunque, la prima reazione è stata di sorpresa. C'è come... che cosa state facendo? Perché le Scuderie del Quirinale sono e sono percepite anche come un luogo super istituzionale. Le mostre alle Scuderie del Quirinale sono un po' sulla piazza del Quirinale, una cosa così. Dice, state facendo un podcast? Siete... Ah! Ecco, questa è stata la prima reazione. Puntata dopo puntata invece il pubblico si è proprio affezionato. Proprio come una serie tv crime. E quindi in realtà anche una delusione del perché fosse finita questa storia dopo cinque puntate. Poi con Favoloso Calvino, insomma ormai erano abituati al fatto che noi a un certo punto buttassimo i dadi in mezzo al tavolo oppure tutte le carte in giro e ci inventassimo qualcos'altro e quindi erano già più abituati. L'effetto sorpresa era meno. Però quello che io, diciamo, avevo come obiettivo fosse quello che le persone potessero accostarsi alle Scuderie attraverso il podcast, attraverso i profili social, come dici tu. E poi non è che i social sono. I social sono come li fai. Quindi ci sono dei social che hanno contenuti interessanti sempre, dei social che non ne hanno mai, dei social noiosi, dei social spiritosi. Non esiste i social. I social sono come li fai. Quindi che potessero accostarsi alle Scuderie del Quirinale attraverso il podcast, attraverso i social, venendo a vedere una mostra o non venendo, ma riconoscendo comunque che le Scuderie hanno un modo di osservare la realtà. Ecco, ancora più che solamente gli avvenimenti culturali o i temi culturali, ecco, hanno uno sguardo sulla realtà. Uno sguardo che ci piaceva condividere con i nostri visitatori, con i nostri follower, con chi ci segue. E quindi le Scuderie hanno delle storie da raccontare. A volte lo fanno attraverso le mostre, attraverso, altre volte attraverso un podcast, attraverso i social, ma è, come dire, una comunità. Ecco, quello che noi volevamo è proprio passare attraverso la costruzione di una comunità. E io credo che ci siamo abbastanza riusciti. Insomma, la strada imboccata è quella giusta. Mi sembra molto bello questa liquidità anche data dai mezzi digitali, no? Il podcast, social, imprendimento. ti permettono in qualche modo di fare veramente servizio pubblico alla comunità, no? Esatto. E questo per me è importante. Io, come dire, mi sento con il fatto di lavorare per un'istituzione come le Scuderie e nel luogo in cui noi lavoriamo, anche se magari il grande pubblico non lo percepisce, noi invece lo percepiamo una sorta di responsabilità. quindi è vero, facciamo delle mostre belle, importanti. Adesso abbiamo questa Napoli 800 straordinaria ed è un'altra sorpresa, Napoli 800, per chi ha voglia di venirla a vedere a Roma. Ma c'è la responsabilità di, come dire, di passare dei contenuti, dei messaggi, di raccontare delle storie a tutti, a tutti, non solamente al visitatore che viene a pagare il biglietto. Ecco, il senso dell'esistenza, anche perché poi le mostre sono delle cose che iniziano e poi finiscono e poi non esistono più, perché non c'è memoria delle mostre se non il catalogo e poi, diciamo, i contenuti, audio, video, che tu hai realizzato nel mentre. Però la mostra non c'è più, di fatto non esiste più. Ecco, non ha senso, almeno per me, per noi, non ha senso fare questo lavoro se si perde di vista il fatto che la cosa più importante è avere delle storie da raccontare a delle altre persone. Quindi passare dei messaggi, ma non dei messaggi educativi, come dire, delle storie, delle conoscenze, delle curiosità, un modo per andare a guardare la realtà. Ecco, se noi non facciamo questo, facciamo solo delle mostre. Ti ringrazio, Chiara, anche per avermi dato un gancio per un'ultima domanda a Francesco, perché hai usato una parola che mi sta molto a cuore e che credo debba essere importante per chiunque fa cultura, informazione, divulgazione. La parola è responsabilità. Tu in che forme senti la responsabilità verso le persone con cui parli, verso le persone che ti seguono? Un'altra cosa che mi interessa sapere è che tipo di risposta c'è quando dai in pasto alle persone dei contenuti che parlano di memoria, di passato? Allora, mi mette in difficoltà la responsabilità, perché è una domanda che mi hanno fatto proprio l'altro giorno, ma la missione, eccetera. Io non credo di avere una missione, una vocazione e non credo neanche di avere una responsabilità, non mi sento così importante. Io sono uno che si diverte a fare il suo lavoro, cerco di farlo bene e se qualcuno è interessato a quello che dico, va benissimo. Però la responsabilità non è... Cioè ho la responsabilità di essere onesto, corretto, eccetera, però qualche altro tipo di responsabilità non credo che sia proprio della figura del giornalista. La responsabilità del giornalista è fare il suo lavoro in maniera corretta. È un'opinione mia personale, ovviamente. Sulla risposta invece è molto buona. Io penso che... Facciamo la metafora dei tempi verbali. Noi abbiamo passato remoto, che conosciamo più o meno, perché l'abbiamo studiato a scuola, no? Quindi quei fatti un po' dai dinosauri alla prima guerra mondiale. Quindi il passato remoto ce l'abbiamo più o meno impresso. Le coordinate ce le abbiamo. Abbiamo il presente, di cui viviamo sempre, con quelle che io chiamo le polemiche da 24 ore. Quindi la polemica del giorno ce l'abbiamo. Veniamo anche subissati un pochino, no? Di questo presente. Quello che ci manca un po' è quello che sta in mezzo, il passato prossimo. Questo lo vedo molto anche nelle giovani generazioni, no? E che, insomma, fino a dove si blocca il programma scolastico, fondamentalmente, ce l'abbiamo. Poi abbiamo le polemiche. Ci manca un po' il passato prossimo. Quindi quello che, secondo me, va appunto dalla seconda guerra mondiale a oggi. E sono tutte quelle storie bellissime, ragazzi, dell'Italia. Ci scrivi cento romanzi. Lo vediamo, lo vedo sia sul mio profilo, ma soprattutto quando facciamo i post su Will. A un certo punto, quando Will è nato, abbiamo detto ma perché non sfruttiamo anche gli anniversari? Proprio per fare il lavoro di divulgazione su tutte quelle storie venute dalla seconda guerra mondiale a oggi. Quindi noi facciamo una volta a settimana una riunione. Io ero incaricato, quindi lo so bene, di scrivere quei post in cui dicevamo 2 aprile. Ok, cos'è successo il 2 aprile di ogni anno? Andavamo su Wikipedia e vedevamo. Non so, il 2 aprile del 1944 sono iniziate le quattro giornate di liberazione di Napoli durante la seconda guerra mondiale. E da lì costruiamo un post che può essere un carusel o una quote con un post. Quelli sono i post che, specialmente, nei primi anni di Will sono andati meglio di tutti. Proprio perché c'era un interesse a colmare quei vuoti con delle storie che uniscono crime, uniscono spy story, eccetera. Uno dei post a cui sono più legato, ad esempio, di Will è quello di Sergio Mattarella quando perde il fratello, no? 6 gennaio 1980, se non sbaglio. Quello è stato uno dei post più apprezzati proprio nella storia di Will. E quindi a me affascinano molto gli anni 70-80 la storia politica italiana e vedo che lì c'è un interesse pazzesco. Quindi sì, la risposta è ottima su tutte le piattaforme, devo dire, anche TikTok. Bene, vi ringrazio tantissimo. Francesco Oggiano. Grazie a voi. Chiara Guerraggio. Grazie a te Sara. Vi consiglio di ascoltare Affari Spenti e Ultracalvino e spero di fare tanti altri bei progetti insieme. Grazie. 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 Grazie.